Allora, oggi ci abbiamo da mangiare questi sushi, c'è anche questi, ultima new entry. Comunque vi faccio vedere come si mangiano i sushi. Allora, si prende un sushi, questa è proprio la ricetta giapponese, no? Infatti sono sushi con la maionese. Si mettono in una puzza di soia, si mette un sacco di wasabi sopra. Poi si mangia. Cercando di non sportarsi i pantaloni. E' un po' di freddo. E' un po' di freddo. E basta, questo è quanto. Mi stanno spiando. Fanno vedere. Pensavo che sono azzittiti per spiarmi. E qua mi sono già spogati i pantaloni di soia, vabbè. Allora, prima di tutto, ciao a tutti.